Come si fa ad ottenere le cellule staminali da utilizzare in caso di trappianto? Per capire come fare dobbiamo sapere dove si trovano le cellule staminali. Dove andiamo a prenderle? Le cellule staminali si trovano nel midollo osseo. Il midollo osseo è quel tessuto mobile che riempie la parte cava delle ossa. Il midollo osseo si divide in una parte non corpuscolata che è di sostegno, il cosiddetto midollo giallo, e il midollo rosso dove ci sono le cellule staminali. Per poterle prelevare abbiamo due metodi. L'espianto, cioè il prelievo dalle ossa del bacino, dalle creste iliache posteriori, che si fa in anestesia generale o epidurale, ha la durata di circa 60 minuti e necessita di un'osservazione ospedaliera del donatore di circa 24-48 ore. Quindi deve rimanere 48 ore in ospedale per far sì che il tutto avvenga nella maniera giusta e regolata. Esatto. E solitamente è la procedura utilizzata in circa il 20% delle donazioni di cellule staminali emopoietiche. La metodica invece più frequentemente utilizzata e che è anche la metodica che viene utilizzata per raccogliere le cellule del paziente è la feresi, quindi il prelievo delle cellule staminali dal sangue periferico. Per far sì che le cellule staminali passino dalle ossa, soprattutto dalle ossa piatte, al torrente circolatorio, è necessario stimolare o il paziente o il donatore per circa 5 giorni con un fattore di crescita, che è un farmaco che fa moltiplicare rapidamente le cellule staminali in modo che queste possano staccarsi dalle ossa, immettersi nel sangue e da qui poi vengono raccolte, vengono inserite in un circuito sterile per un meccanismo di filtrazione e centrifugazione vengono raccolte in una sacca mentre il resto del sangue ritorna nel paziente. Ecco, per semplificare o per cercare di semplificare, che non va semplificato però va ridotto, cioè il primo trapianto richiede due giorni. La prima donazione. Pardon, la prima donazione per il donatore richiede due giorni e però è un circoscritto a quei due giorni, mentre l'altra richiede magari meno presenza ma richiede un trattamento maggiore, i 5 giorni di assunzione di farmaci affinché poi si creino le condizioni per quel sangue per poter dare la cellula staminale. Ma non necessita di un ricovero speragliero né di un'anestesia. I donatori sappiano che nel caso del primo devono soffermarsi per avere l'ora in anestesia e i due giorni di osservazione e di cura, mentre nel secondo caso devono però fare un trattamento, seguire queste affinché sia realizzabile la donazione. Esatto, magari molti hanno già donato piastrine, la procedura della donazione delle cellule staminali emopoietiche è molto simile alla raccolta delle piastrine. Segue quello stesso tipo di procedura.